3 a 1 il punteggio con cui il Cir Gomez sta conducendo questa ultima partita di stagione regolare contro i ragazzi dello Zenit che però sono in inferiorità numerica attenzione Trinchillo manca l'appuntamento con la doppietta non riesce ad intervenire sul pallone questa rimessa dal fondo se non caricherà De Falco De Falco il lungo di lancio Cecere intercetta Pallone è spazzato poi Ricciardi Ricciardi a cercare De Nicris stacca Santullo Pallone è arrestato per Trinchillo che prova ad andare e Vitillo lo anticipa poi Ricciardi il dribbio su Santullo ancora Ricciardi poi Ruffo ancora Ruffo recupera Santullo e poi riparte da Di Giorgio ancora Di Giorgio centralmente palla in verticale Pallone è invece fuori in verticale fra le braccia di De Falco quest'oggi portiere va intercettata Santullo alla GIA per Di Fusco fallo subito da Di Fusco si riprenderà con un calcio di punizione per il CIRGOM diamo di seno in carica si lo stesso Cicere tocco sotto Cicari Trinchillo la palla che entra in porta con il gol del 4 a 1 del CIRGOM che sembra adesso davvero aver ipotecato il match inferolità numerica la gara davvero non c'è stata più incertezza però di De Falco in questa occasione la palla che l'ha scavalcato in maniera beffarda vediamo De Nigris che riparte dietro da Pizzo poi Vitiello ancora Pizzo rienta sul destro Pizzo palla centrale per Ruffo intercetta bene Di Fusco poi palla per Santullo con le due cariche a sinistra e non asca si perde in chilo con il tacco pallone che sfila diventa addirittura utile per Ruffo che prova ad andare pallone che però termina fuori ultima azione prima di interrompere il nostro collegamento ancora Ceciar il pallone arretrato per Tricarico da Tricarico rienta sul destro il pallone allargato bene per Di Giorgio ancora Di Giorgio sulla fascia prova a salire di gran carriera ancora Di Giorgio Giorgio però lo è scontrato in mezzo a cercare Santullo che però non riesce a tenere in campo 4-1 fra Cergome e Zenit interrompiamo qui il nostro collegamento di Giorgio di Giorgio di Giorgio